ciao ragazzi ciao ragazze allora sono riuscita a lavarmi i capelli anche con un braccio solo ho fatto un po di acrobazie però ce ne sono ci sono riuscita allora in questo video io voglio mostrarvi i profumi di avon che ho acquistato per fare i regali di natale alcuni sono i miei preferiti in assoluto alcuni non li ho mai provati sono tutte confezioni da 50 ml tranne una che è l'ultima iniziamo allora vado faccio proprio una classifica allora vediamo quanti sono 1345 11 parto dall'ultimo allora intanto è una coppia avon attraction questo qui è un formato da 50 ml e costa 19 euro io vi dico i prezzi che ho trovato sul catalogo quando li ho acquistati metterò il link amazon qui sotto nel caso vogliate acquistarli però non so se i prezzi siano gli stessi devo vedere insomma non vorrei dire una cosa per un'altra quindi questo qui avon attraction versione bianca per lei accompagnata quella per lui versione nera quindi praticamente così e anche questo 19 euro 50 ml ok poi un altro questo qui molto fresco si sente profumo d'acqua è buonissimo sarebbe il flash o de toilette 50 ml anche questo e costa 10 euro e 99 si vede sì poi andiamo avanti metto poi questo rare flowers night orchid 16 e 99 50 ml davvero davvero fantastico per me tutta la linea rare di avon è top del top del top dopo di che metto in classifica far away rebel questo non ho mai usato 16 99 voi l'avete mai usato fatemi sapere nei commenti qui sotto andiamo avanti dunque dunque allora poi metto in classifica questo avon eb duet contrasts 50 ml è un profumo doppio uno di qua e uno di qua costa 24 euro e qua c'è scritto 2 per 25 ml vabbè 50 ml di profumo in tutto poi metto in classifica il avon soft musk questo è stato il primissimo profumo di avon che ho acquistato e devo dire che mi piace moltissimo e devo dire che mi piace molto perché è molto fresco mi piace insomma forse più che altro estivo secondo me però fa sempre scena quindi ottimo regalo di natale 10 euro 99 poi metto il far away infiniti ragazzi questo è stupendo come tutta la linea dei far away è davvero buono come profumo cioè da questo profumo fino al primo posto della mia classifica sono profumi che secondo me se li regalate andate dritti siete sicuri di fare bella figura perché sapete che con i profumi insomma non si sa mai se piacciono se non piacciono però questi da questo in avanti ragazzi sono top del top quindi far away 20 euro 50 ml far away infiniti poi metto questo che questo l'ho preso per me che è il amon soft musk delis fleur de cioccolata sa di cioccolato di cioccolato 10 euro e 99 ragazzi stupendo bene poi gli ultimi due posti allora al secondo posto metto questo rare gold stupendo 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 davvero 16 euro e 99 al primo posto per me top del top rare pearls 22 euro ne ho due quindi se volete insomma uno ve lo posso dare dare cioè davvero numero uno questo stupendo e poi dolci sinfondo per i bambini una soprattutto per le bambine un'ottima idea regalo è questa di frozen è un set che contiene il gel per capelli i luci da labbra la crema a mani e l'acqua di colonia e costa 7 euro praticamente ne ho una sola è rimasta una sola confezione e insomma vedo che le bambine apprezzano davvero tanto guarda che bella sempre sta luce in mezzo ecco qua allora questa è la mia classifica dei profumi Avon che sono secondo me tra i migliori proprio anche a livello di qualità prezzo e anche a livello di profumazione cioè Avon secondo me su queste cose vince ok ci sono altre aziende che hanno profumi migliori eccetera però devo dire che insomma per i prezzi che hanno sono di qualità secondo me sì poi questo è il mio preferito in assoluto vi ripeto il rare pearl che insomma molto elegante molto signorile molto bello va sempre bene per tutti i giorni e anche per se dovete andare ad una cena importante insomma sono profumi che vi fanno fare bella figura assolutamente e niente ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti se avete provato anche voi questi prodotti se vi sono piaciuti con quali vi siete trovati bene con quali vi siete trovati male e vi invito ad iscrivervi al mio canale e ad aiutarmi a far conoscere il mio canale e a più persone possibili condividete condividete ciao